... Terzo gradino del podio al BEA 2015 per Avassi Vence Milano con il concerto opening di Expo 2015 insomma un grande evento in Piazza del Duomo a Milano ce lo racconti, com'è andata? Dunque, una bellissima avventura, naturalmente una sfida importantissima perché immaginerete che l'Expo stava per aprire e la tensione era altissima parto da forse l'aspetto meno evidente, la sicurezza, la questura, la prefettura una tensione spasmodica a quello che potrebbe succedere ad arrivare a un cast di artisti internazionali e italiani eccezionali Bocelli, Lang Lang, l'Orchestra della Scala quindi indubbiamente un'occasione unica di avere tutti insieme su un palco l'occasione di suonare anche liriche, fatemi dire famose, per cui straordinarie una piazza intera, 3.000 ospiti selezionati ma 15.000, 20.000 di pubblico di Piazza Duomo che cantava sole mio o libiano, quindi veramente emozionante è una produzione in loco sul territorio di 14 giorni occupando Piazza del Duomo e Piazzetta Reale che è stata decisamente una sfida incredibile un risultato straordinario perché abbiamo avuto, se non ricordo male il 33% di share in Italia, quindi 9 milioni di persone che hanno seguito con dei picchi anche più alti e altrettanti almeno in Europa anche se i dati non sono ancora arrivati Quante persone invece c'erano in piazza? Dunque in piazza noi avevamo 3.000 ospiti seduti tra la sciola segretaria organizzativa che è stata anche in quel caso abbastanza complessa per l'arrivo, immaginerete, l'accredito e quant'altro e 15-20.000 persone si sono allungate, sparpagliate attorno a noi attorno a questo box, questo recinto di parterre che avevamo selezionato è la prima volta col palco davanti al Duomo per questa occasione unica e quindi come dire uno spettacolo estetico alle spalle del Duomo una scenografia unica e credo difficilmente ripetibile Secondo te che cosa vi ha fatto meritare questo riconoscimento? Secondo me questo riconoscimento nasce dallo sforzo che ha fatto innanzitutto Expo con la mia agenzia che ha vinto anche prima la comunicazione advertising BTL di Expo che ha concluso, che in questo percorso ha creduto di produrre un evento live un live show, un live event, una live communication Ringraziamo Attilio Manassero per Advia Express TV, Serena Piazza